Troviamo un Castrovilleri che ha bisogno di punti di salvezza, troviamo un Castrovilleri che ha dimostrato fino ad oggi che i suoi su 31 punti 21 li ha fatti fuori, se non erro, una squadra che occupa la quarta posizione in classifica per le partite fatte in trasferta e quindi una squadra che ha il diritto di pensare, di venire qua e provare a fare punti. Quindi noi lo sappiamo, siamo in guardia, però dobbiamo pensare anche alla nostra forza, consapevoli del nostro obiettivo che è quello di fare quanto più punti è possibile di qua fino alla fine, consapevoli che comunque è una partita difficile e tosta ma che dobbiamo fare anche noi il massimo per cercare anche più, per cercare di fare la nostra. La classifica dice che Castrovilleri per le partite svolte fuori casa è quarto e da questo dobbiamo prendere spunti, dobbiamo cercare di individuare e capire le motivazioni che spingono questa squadra a fare meglio fuori casa. Io penso che il fattore campo a Castrovilleri e le condizioni del terreno non hanno una mano a una squadra che ha tanta qualità e molto spesso fuori casa si esprime meglio. Quindi noi siamo consapevoli che incontriamo una squadra che proverà sicuramente a giocare al calcio, che ha gli elementi per poterlo fare e quindi sarà una partita dove loro verranno qui per fare bene e noi dobbiamo cercare di contrastare il miglior modo possibile. Io penso che è una partita dove alla fine vincerà chi ha più fame e chi ha più ferocia. Noi dobbiamo metterle al primo posto queste due componenti per cercare di indirizzare la partita e gli episodi a nostro favore.